Si presume circa 5-6 persone, perché poi al nostro arrivo si sono dati tutti alla fuga, rimanendo i danni di genti sul posto. Sì, è stato un colpo rapido, l'intervento è stato rapido altrettanto da parte delle forze della Union Security. Dopo un'allerta, un dato da un allarme della centrale dell'Unicredit, siamo intervenuti dopo circa due minuti, due minuti e mezzo. La situazione è stata critica anche da parte delle forze della Union Security. Dopo, ovviamente, l'intervento è stato appiedato, perché varie strade sono state bloccate. Tra l'altro è stato anche un inseguimento da parte delle forze dell'ordine ad un furgone di colore bianco e sono state tratte in arresto due persone. Due persone di un gruppo di quanti persone? Si presume circa 5-6 persone, perché poi al nostro arrivo si sono dati tutti alla fuga, rimanendo i danni di genti sul posto. Sono delle bande specializzate ormai, non è un colpo più tanto anormale. Assolutamente sì, bande specializzate, attrezzate, proprio per effettuare questo tipo di scassi. Grazie. 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 Grazie.